ciao a tutti oggi parliamo delle operazioni preliminari necessarie da effettuare prima di operare un rinvaso su una nostra pianta queste operazioni riguardano il vaso il terriccio lo sfagno e lo strumentario incominciamo ad analizzare il primo punto quello del vaso come vi avevo detto in un video precedente la scelta del contenitore più adatto per il nostro albero è una scelta fondamentale da cui dipende il benessere della nostra pianta il vaso innanzitutto deve essere pulito come questo quindi non deve recare traccia di sporco di vecchio terriccio o di vecchie radici come in questo caso per pulirlo basta semplicemente utilizzare una spugna e un po di acqua nel caso lo sporco sia un po più ostinato come dice la pubblicità possiamo utilizzare anche un detergente per piatti l'importante è che una volta che andiamo a risciacquarlo lo facciamo con abbondante acqua in modo tale da eliminare qualsiasi traccia di prodotto chimico una volta fatto questo il vaso va preparato praticamente bisogna utilizzare una retina di plastica come questa per andare a coprire i fori di drenaggio che sono appunto quei fori posti sotto la base del nostro vaso si ritaglia questa retina a misura del foro che deve coprire così e poi lo si fissa con un filo metallico in modo tale che la retina sia ben fissata al nostro vaso la rete innanzitutto permette di non far cadere il terreno fuori dai fori ma soprattutto non permette che insetti di grosse dimensioni non entrino all'interno del pane radicale creando magari anche danni alle radici ricordatevi sempre di utilizzare vasi integri in modo tale che non ci siano crepe all'interno del vaso che con il variare delle temperature quindi il passaggio dal caldo al freddo non spacchino il vaso creando poi danni all'apparato radicale passiamo adesso al secondo punto che è quello del terriccio ora qui dobbiamo però aprire una piccola parentesi perché ogni bonsaista che si rispetti ha la formula magica per preparare il proprio terreno e quindi si possono trovare informazioni le più discordanti ricercando appunto su internet piuttosto che su libri e riviste la cosa importante che il terreno ideale per la nostra pianta deve avere due caratteristiche principali che sono uno il drenaggio e due la ritenzione idrica il drenaggio e la capacità del terreno di trattenere dentro di sé dell'aria in modo tale che le radici possano utilizzarla per la loro crescita la ritenzione idrica invece la capacità del terreno stesso di trattenere acqua e sostanze nutritive dentro al terreno stesso ora normalmente il terreno si compone di una miscela con un elemento principale che compone la maggioranza di questa miscela e degli elementi secondari che alterano una delle due caratteristiche di cui vi ho accennato come elemento principale quasi sempre si utilizza un argilla di importazione giapponese che si chiama akadama che quella classica argilla rossa a grani grossi che ha un ph quasi neutro intorno al 6 3 6 8 a una buona ritenzione idrica una buona capacità di drenaggio e soprattutto mantiene intatta la propria struttura per un periodo abbastanza lungo a volte per alcune coltivazioni soprattutto per quelle specie che vengono chiamate acidofile utilizziamo un altro tipo di argilla che si chiama canuma che ha un ph un po più basso quindi intorno al 4 5 ed è adatto appunto alla coltivazione di quelle piante che necessitano di un terreno più acido rispetto al resto delle essenze che coltiviamo ci sono poi gli elementi secondari che vengono appunto miscelati insieme all'elemento principale e che alterano le due caratteristiche il drenaggio e la ritenzione idrica quindi lo possono aumentare lo possono diminuire e qui abbiamo tante tipologie di elementi che possiamo utilizzare alcuni sono di origine vulcanica come la pillo la pomice il chirio la zeolite oppure la perlite poi abbiamo del materiale organico può essere utilizzato o dell'humus oppure del terriccio universale e la sabbia che può essere sabbia di fiume o sabbia di montagna l'elemento principale e gli elementi secondari vengono miscelati in varie percentuali creando quello che in gergo viene definito il substrato la scelta di un substrato piuttosto che un altro dipende da diversi fattori innanzitutto dal tipo di essenza che andiamo a coltivare come ho detto alcuni alcune essenze preferiscono dei terreni acidi altri invece dei terreni quasi neutri alcuni consumando molta acqua preferiscono dei terreni che abbiano una buona ritenzione idrica altri invece preferiscono un terreno molto areato e quindi a seconda dell'essenza che andiamo a coltivare chiaramente cambieranno le percentuali sia dell'elemento principale che degli elementi secondari un altro fattore che incide sulla scelta del substrato è sicuramente il benessere della pianta per esempio se abbiamo piante che hanno sofferto di marciume radicale è buona cosa utilizzare un terreno molto drenante in modo tale da arieggiare il terreno stesso e permettere la nuova crescita molto più abbondante di radici se alcune essenze invece soffrono la calura estiva si preferisce utilizzare un terreno che abbia una buona capacità di ritenzione idrica altro elemento che entra in gioco quando andiamo a scegliere un substrato piuttosto che un altro è anche il clima in cui viviamo perché capite benissimo che le caratteristiche di un clima piuttosto che un altro incidono nella fase di asciugatura del nostro terreno gli elementi che compongono il substrato priva di essere miscelati devono essere lavorati per farlo utilizziamo un setaccio come questo è un setaccio che ha delle maglie differenti in modo tale da poter separare le varie granulometrie con cui è composto il terreno che andiamo a lavorare questo ci permette innanzitutto di utilizzare un substrato che abbia nei suoi componenti la stessa granulometria in modo tale da garantire una buona reazione del terreno ci permette inoltre di eliminare della sporcizia che comunque rimane all'interno dei sacchi soprattutto di akadama o comunque dei vari componenti e soprattutto ci permette di eliminare la dannosissima polvere che appunto lo scarto della lavorazione che se rimanesse all'interno del vaso potrebbe creare danni molto seri all'apparato radicale in quanto bagnando si creerebbe una specie di barriera una pellicola che va a diciamo impedire la reazione delle radici e quindi porterebbe alla sfissia e magari anche al marciume radicale ora vi mostrerò alcune tipologie di terreno quindi vedremo prima innanzitutto la kadama le sue varie granulometrie e poi vi farò vedere uno dei componenti che utilizzo nel vari su strati questa è la kadama di granulometria grande qui abbiamo la calama di granulometria media e qui così abbiamo la calama di granulometria fine vi faccio vedere anche le diverse granulometrie poste vicino in modo tale da capire qual è la differenza questa invece è pomice di granulometria grande che uno dei componenti che viene utilizzato appunto per miscelare il substrato invece qui invece vediamo una granulometria più grande sia di pomice che di akadama come accennavo prima il mio consiglio è quello di non mischiare terrici con granulometria diverse proprio per una questione di areazione e quindi di utilizzare possibilmente granulometria simili nei vari componenti del substrato il terzo elemento che andiamo ad analizzare lo sfagno lo sfagno è un muschio a fibra lunga che viene utilizzato sminuzzato e poi posto come strato protettivo sopra al nostro terreno so che tanti borsaisti non utilizzano lo sfagno io personalmente lo utilizzo su quasi tutte le mie coltivazioni lo sfagno ha elementi positivi e qualche elemento negativo e secondo me gli elementi positivi superano di gran lunga gli elementi negativi ecco perché utilizzo lo sfagno su quasi tutte le mie coltivazioni innanzitutto permette la crescita di un'enorme quantità di radici superficiali che sono quelle radici fini che assorbono acqua e sostanze nutrienti dal terreno inoltre crea uno strato protettivo sia durante la stagione invernale che durante la stagione estiva durante la stagione estiva permette una lenta asciugatura del nostro terreno creando un microclima umido molto favorevole appunto alla crescita delle radici superficiali inoltre perché utilizza per esempio delle pastiglie di concime a lento rilascio sa benissimo che una volta degradata la pastiglia rilascia una specie di sostanza che va a sporcare il terreno ecco con l'utilizzo dello sfagno questo non succede perché appunto questa chiamiamola sporcizia si deposita sul sullo sfagno e quindi non va a sporcare il terreno basta poi sostituire lo sfagno per avere ancora una superficie pulita adesso vi mostrerò lo sfagno sia come si presenta quando andiamo ad acquistarlo sia come si presenta dopo che l'abbiamo lavorato ecco qua lo sfagno come si presenta quando andiamo ad acquistarlo come potete vedere c'è del materiale che va eliminato sono vecchie radici e lo sfagno poi va tritato e sminuzzato finemente fino a raggiungere quasi la consistenza della segatura una volta lavorato poi viene immerso nell'acqua gli svantaggi bene innanzitutto per chi utilizza la cadama sa benissimo che una delle caratteristiche della cadama è anche quella di cambiare colore a seconda del grado di umidità che essa contiene quindi un colore scuro vuol dire che la cadama è ancora umida e bagnata un colore chiaro rossiccio vuol dire che la cadama è asciutta e quindi per andare ad innaffiare la nostra pianta basta guarda basta guardare il colore appunto del nostro terreno con lo sfagno questo non può succedere perché appunto va a ricoprire il terreno stesso però possiamo utilizzare degli accorgimenti per esempio sollevare il bordo dello sfagno in modo da andare a vedere sotto il nostro terreno se ancora umido e quindi non necessita di innaffiatura oppure se è asciutto e quindi necessita di innaffiatura oppure fare come faccio io cioè creare una specie di anello intorno alle vari che non viene ricoperto dallo sfagno e quindi possiamo utilizzare la nostra vista per vedere se il terreno è asciutto oppure no quindi per queste ragioni ripeto io utilizzo sempre lo sfagno sulle mie coltivazioni proprio perché appunto secondo me i vantaggi sono molto più numerosi e remunerativi rispetto agli svantaggi il quarto punto che andiamo ad analizzare quello dello strumentario cioè dei nostri attrezzi i nostri attrezzi prima di essere utilizzati su qualsiasi pianta devono essere puliti disinfettati e ben affidati uno strumento pulito ha una maggiore vita di utilizzo rispetto a uno strumento che viene sempre utilizzato sporco la seconda cosa è quella di disinfettarlo questo per prevenire la propagazione di eventuali patologie da una pianta malata a una pianta sana il terzo punto è quello della filatura uno strumento affilato fa un taglio pulito netto preciso e questo permette non solo di lavorare meglio ma anche una cicatrizzazione migliore dei tessuti che siamo andati a tagliare sia che essi siano della parte apogea della pianta quindi rami piuttosto che parte di tronco sia delle radici se facciamo un taglio pulito il la pianta riuscirà a cicatrizzare la ferita in minor tempo bene con questo concluso questo video sulle operazioni preliminari spero che sia stato un video interessante se vi è piaciuto e vi garba mettete pure un mi piace qui sotto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale in modo da essere sempre aggiornati sui video in uscita e niente nel prossimo video parleremo finalmente di un rinvaso vero e proprio di una pianta quindi andremo ad eseguire e a parlare un po di come si esegue un rinvaso per oggi è tutto un arrivederci e un buon bonsai a tutti dal vostro bonsai leeds grazie